facciamo ora un esempio di come sia possibile assegnare un compito un po' più tradizionale ad esempio la produzione di un testo allora diciamo che devo preparare il lavoro visto che sto chiedendo la produzione di uno scritto userò come applicazione google documenti ma posso anche usare tranquillamente un foglio di word perché è indifferente allora dal mio account apro la solita icona delle applicazioni mi appare questa schermata scelgo documenti e apro un documento nuovo una volta che ho aperto il mio documento preparo il testo ovviamente io posso scriverlo al momento posso anche copiarlo e poi incollarlo nella pagina come si può vedere google documenti è pressoché identico a word cambia magari qualche icona cambia magari la disposizione delle icone però sostanzialmente è una schermata di scrittura bene una volta che io ho terminato il mio lavoro clicco in alto sul titolo e automaticamente mi verrà riportato lo stesso titolo che io ho scritto in cima al mio testo allora il mio compito è pronto allora il mio compito è pronto ovviamente mi ricordo sempre che è stato salvato automaticamente nella mia cartella di drive cosa devo fare ora? semplice entro nella pagina dei lavori clicco su crea scelgo compito mi si apre la solita schermata del compito inserisco il titolo le istruzioni di lavoro poi tra i pulsanti che ci sono in basso a sinistra scelgo drive perché? perché il mio documento è stato salvato lì cliccando drive in questo caso siccome io ho appena salvato il lavoro mi si apre automaticamente la pagina dei documenti recenti ma se io clicco su il mio drive perché magari questo file l'ho preparato che so un mese fa io lo trovo comunque lì al suo posto lo scelgo ed ecco come appare la schermata di assegnazione del compito allora io qua ho la mia classe esercizio di completamento leggi attentamente il racconto allegato e scrivi tu il finale e qui compare il file che ho allegato attenzione però io sto chiedendo agli alunni agli studenti di lavorare su un documento che ho preparato io allora se io lascio questa impostazione gli studenti possono visualizzare il file praticamente gli studenti non faranno altro che leggere quello che io ho scritto ma non possono fare nulla di più allora cosa faccio? io clicco sulla freccina e mi si aprono altre due possibilità se io scelgo gli alunni possono modificare il file gli alunni potranno lavorare su quel documento attenzione però perché lavoreranno tutti sullo stesso documento non è questo il lavoro che sto chiedendo io adesso per questa situazione io dovrò cliccare crea una copia per ogni studente quindi questo cosa significa? che ogni mio alunno riceverà il suo file con il mio racconto già iniziato e lui potrà tranquillamente eseguire il compito un compito singolo che fa soltanto lui bene cosa fa l'alunno allora? come al solito l'alunno riceve la notifica entra nella classe e poi svolge l'esercizio in questo caso io ho aggiunto in fucsia la parte scritta dall'alunno ammettiamo poi che una seconda alunna abbia fatto la stessa cosa in questo caso ho usato il verde una volta terminati i compiti ciascuno di loro invierà il lavoro fatto in questo caso non basterà scrivere manda ma dovranno allegare il file entriamo nella mia pagina dei lavori io qui ho il riscontro che avevo assegnato dei compiti in questo caso due perché in questa classe di prova ho soltanto due studenti e effettivamente due compiti mi sono stati restituiti apro visualizza il compito e cosa vedo? vedo i compiti dei due alunni posso distinguere quello dell'alunno che ha scritto in fucsia e quello dell'alunno che ha scritto col verde bene sono compiti e quindi adesso io li devo aprire e correggere oppure fare delle osservazioni è molto semplice mi basterà evidenziare il punto su cui voglio richiamare la sua attenzione cliccare su questa icona e mi si apre una finestra che mi permette di inserire il commento questa era la parte che avevo evidenziata questa parte in giallo rimarrà così poi la vedremo e qui io ho inserito il mio commento spesso ci capita di dover scrivere per molti alunni sempre la stessa frase perché spesso gli alunni commettono delle tipologie d'errore che si ripetono allora per evitare di scrivere tutte le volte sempre la stessa frase che cosa posso fare allora io in questo caso ho evidenziato la parte ho scritto un commento questa parte va ulteriormente sviluppata capita spesso che io debba dire una cosa del genere allora qui in questa icona mi si apre la banca dati dei commenti cioè in pratica io posso creare una raccolta di commenti da utilizzare quando mi servono allora se io clicco su quell'icona mi si apre questa parte allora qui c'è il mio commento qui ho cliccato l'icona banca dati dei commenti cosa succede? cliccando qui allora io torno sul mio commento clicco come al solito i tre puntini mi si apre questa tendina aggiungi alla banca dati dei commenti significa che questo commento che io ho scritto qua andrà a inserirsi nella banca dei commenti io posso anche aggiungerne non solo uno alla volta io qua potrei andare a capo e scrivere attento all'ortografia poi vado a capo un'altra volta e scrivo hai commesso degli errori nell'uso dei tempi verbali poi clicco aggiungi e tutte le volte che io avrò bisogno di uno di questi commenti anziché riscriverlo mi basterà aprire la banca dei commenti e scegliere il commento che mi serve bene terminata la correzione clicco su restituisci aggiungo un commento al ragazzino modifico il valore del compito perché insomma non ha fatto proprio un compito bellissimo e poi confermo la restituzione in questo modo all'alunno arriva la notifica che il suo compito è stato corretto e valutato quando l'alunno riceve la notifica apre il suo compito e vede il mio commento e la valutazione che io ho dato apre il compito e trova le mie correzioni e le mie osservazioni vedete che la parte evidenziata è rimasta evidenziata quindi lui troverà immediatamente la parte e accanto quello che io gli ho scritto facciamo adesso un esempio diverso perché io qui ho dato un file che era già in parte strutturato da me e loro dovevano completare però io potrei anche chiedere una produzione scritta ad esempio quindi produzione racconta come hai trascorso la domenica allora non posso qui dare io il file già pronto loro utilizzeranno google documenti e allegheranno poi il compito vediamo come sarà fatto questo allora lui lo studente apre la consegna del lavoro clicca la solita icona delle applicazioni sceglierà in questo caso google documenti gliel'avevo già suggerito io nelle istruzioni questo si può fare le prime volte dopodiché sarà evidente che capiranno da soli i ragazzi che cosa devono utilizzare aprirà un documento nuovo e poi svolgerà il suo compito questo compito come sempre sarà automaticamente salvato nella sua cartella di drive quindi non dobbiamo neanche preoccuparci del fatto che spesso i nostri ragazzi si dimentichino di salvare i loro lavori perché il sistema ci pensa a sopperire a questa distrazione quando avrà deciso che il compito è stato fatto bene è a posto e quindi lo posso rimandare alla prof rientrerà nella sua classe cliccherà in questo caso aggiungi perché deve allegare un file si apre la solita tendina e sceglierà google drive perché ovviamente il suo lavoro lo troverà nella sua cartella di drive aprendo la cartella infatti ecco che trova il suo documento di produzione scritta non farà altro che selezionarla automaticamente verrà allegato al lavoro cliccherà consegna ecco qua verrà inviato un allegato per produzione questo è il suo file lui sceglierà consegna e il lavoro risulterà consegnato invece nella mia pagina di lavoro comparirà il suo compito eccolo qua l'avevo segnato lui l'ha consegnato io aprirò come abbiamo visto prima il suo file correggerò metterò delle osservazioni aggiungerò dei commenti metterò un commento privato al compito che lui ha eseguito glielo restituirò e lui riceverà come al solito il compito corretto io ho fatto un esempio di scrittura perché è il più semplice però ovviamente questa procedura vale per qualsiasi tipo di applicazione che io decida di far utilizzare i ragazzi i ragazzi potrebbero preparare una presentazione oppure potrebbero lavorare su un foglio di calcolo o insomma su qualsiasi altra possibilità che la piattaforma di Google Suite ci offre